Buongiorno a tutti e benvenuti ad un altro appuntamento di D-Days Incontra. D-Days Incontra ormai lo sapete, è un appuntamento ricordente che va oltre a quello che è il Digital Innovation Days. Digital Innovation Days ormai lo sapete tutti e vi aspetteremo a novembre con l'evento in cui ci incontreremo, incontrerete e conoscerete ospiti incredibili nel mondo del marketing, dell'innovazione, non solo. D-Days Incontra è un format che andiamo a ripetere ogni settimana dove su quattro tematiche, quindi le tematiche del Digital Innovation Days, quindi digitale, innovazione, sostenibilità e informazione andiamo a incontrare degli ospiti che ci accompagneranno da qui a novembre. Oggi siete con me, è la settimana dell'informazione e con me oggi Marco Baldocchi. Marco Baldocchi che è fondatore di Marco Baldocchi Group in Miami, esperto in neuromarketing e io do il benvenuto a Marco. Ciao Marco, come stai? Ciao, grazie a tutti, grazie per questo invito, molto bene. Una bella opportunità. Guarda Marco, io quando ho letto un po' la tua bio e ho letto un po' le cose che fai da appassionato di neuromarketing, la prima cosa che mi son chiesto di chiederti è ciao Marco, che cos'è il neuromarketing? Guarda, è la domanda forse più ricorrente. Il neuromarketing è il punto di contatto tra le neuroscienze ed il marketing. In altre parole, in modo molto più scherzoso, te lo definirei la fine della fuffa, nel senso che le neuroscienze ci permettono di avere dei dati scientifici a supporto del marketing, quindi è la fine del secondo me, è la fine di tutto questo aspetto di percepito, perché il nostro cervello elabora in maniera subconscia una gran parte dei nostri meccanismi cognitivi, circa il 95%. Ecco, il neuromarketing va lì e utilizza strumenti, quindi tecnologia e scienza, per arrivare alle emozioni, al coinvolgimento emozionale delle persone. Ma quanto studio deve esserci prima di improvvisarsi in neuromarketing? Perché forse appunto della mancanza, cioè è la fine della fuffa, prima di affrontare un percorso di questo tipo bisogna avere molto lavoro alle spalle, molta ricerca e anche molta volontà di continuare a studiare per poter lavorare. Sicuramente, sicuramente ci sono anche tanti profili che fanno parte di un team di neuromarketing, che spaziano dal consumer behavior fino agli aspetti di psicologia veri e propri. Il continuo studio è veramente alla base di questa scienza, perché comunque è una scienza relativamente giovane, e comunque sicuramente in Italia relativamente poco applicata ancora. Ci sono due tipologie, se vogliamo, di divisione, di concetto di neuromarketing. Uno è il neuromarketing applicato alle strategie, quindi sulla base di alcune, diciamo, regole che ormai sono più o meno scritte, che vengono poi tratte ovviamente dalle analisi di laboratorio che sono state fatte negli anni, abbiamo dei consulenti che offrono questo tipo di servizio. Poi c'è un'altra parte di ricerca vera e propria che viene effettuata con dei laboratori, e lì, ti puoi immaginare, si entra un po' nell'ambito scientifico e quindi gli aggiornamenti, gli studi, le scoperte sono praticamente quotidiane. Quindi quello che voi andate a fare è studiare proprio il comportamento dell'uomo in funzione a quello che vedono o a degli input che vengono dati, corretto? Correttissimo. In pratica il neuromarketing analizza tutto quello che è stimolo sensoriale, e quindi le sensazioni con cui una persona entra in contatto, poi il nostro cervello elabora le sensazioni e quindi diventano percezioni e noi andiamo ad analizzare proprio questo. Perciò siamo in grado di dirti se un determinato packaging, ruvido o liscio, o di un colore o di un altro, o con un profumo o un altro, ha un impatto emozionale più forte o meno forte e soprattutto allineato, questa è la chiave, secondo me, più importante, con i brand value. Ti faccio un esempio molto semplice, siamo riusciti ad aumentare in una catena di bar la vendita dei cornetti, loro non producevano cornetti, ma semplicemente vendevano cornetti che venivano scaldati ad hoc, semplicemente mettendo dei profumatori al profumo di cornetto appena fatto. A determinate ore, questi profumatori spruzzavano questo aroma nell'aria, un fortissimo input sensoriale che ha fatto venir voglia, io dico l'acquolina in bocca, scherzando, e quindi ha fatto venire voglia alle persone di acquistare cornetti e perciò siamo riusciti a dare una mano al brand. Beh, incredibile. Guarda, prima di andare avanti un pochino più sulle domande tecniche, io sono affascinato dal conoscere le storie delle persone. Come ti sei appassionato a questa sfida? Cioè, da dove arrivi? Qual è la tua storia precedente al neuromarketing? Io parto da due racconti che sono molto American style. il mio primo lavoro... Infatti, il mio primo lavoro riparavo computer, ero un tecnico laboratorio computer in una cantina di un piccolissimo negozio nella mia città, originaria a Lucca. Vi dico cantina perché l'hub l'avevano fatto veramente sottoterra, avevamo la microfinestria. Da lì è passata tanta acqua sotto i ponti. Nel 2005, dopo un percorso in realtà menageriale all'interno dell'azienda, ho aperto la mia prima società, la OnWeb, in Italia, a Lucca. E poi, quattro anni fa, sono approdato a Miami con la pazza idea di insegnare agli americani come si fa a fare comunicazione emozionale. Che cosa mi ha fatto scattare la molla del neuromarketing? Io venivo dalle strategie. Ero colui che creava strategie per i brand. A un certo punto, ero appassionato di neve, ma abito a Lucca. Per chi non... Abitavo a Lucca. Per chi non conosce Lucca, Lucca è una piccola città medievale, rinascimentale medievale, in Toscana. Immaginatevi le strade, come possono essere molto... Un'altra è meravigliosa. Sì, sì, a misura d'uomo. Beh, ok. Diciamo, convinto da alcune pubblicità, decido di cambiare auto ed acquistare un Grand Cherokee. Ora, non so se avete idea com'è la Jeep Grand Cherokee, le dimensioni di questo Pullman versione famiglia. Bene. parcheggiarla era un pianto e a quel punto mi domandai ma come diamine è possibile che io che faccio strategie mi sia fatto, passatemi il termine, fregare o comunque condizionare da una pubblicità. Vado a sciare cinque giorni l'anno. Bene. Lì ho iniziato ad approfondire come funzionava il nostro cervello, come i messaggi potevano indurre la persona a fare un nudge, quindi una spintarella verso una determinata azione. E da lì, dopo un anno e mezzo, ho cambiato auto perché era imparcheggiabile nella mia città all'epoca, ma da lì sono entrato nel mondo del neuromarketing, formandomi poi anche negli Stati Uniti, aprendo il primo laboratorio a Miami e successivamente anche in Italia con proprio lab strumentale, quindi lavoriamo con elettroencefalogramma e poi dopo vi racconterò gli altri strumenti. Però è nato da un'esigenza, è nato veramente da un voler capire perché alcuni brand avevano messaggi più seducenti e più persuasivi di altri. Allora, guarda, mi collego subito a questa storia che è molto significativa perché quanti come te, no, avranno provato una stessa esperienza, hanno sbagliato un acquisto perché indotti, no, dall'emozione, ma tu che ora lo studi e lo applichi nel tuo lavoro, come funziona il nostro cervello? Cioè, che tipo di input costanti riceve e come regisce? Allora, innanzitutto vi dico che il nostro cervello è la cosa più pigra che noi abbiamo mai conosciuto. Noi lavoriamo, il nostro cervello lavora perennemente in risparmio energetico. Cioè, se il cervello può risparmiare energia, lo fa. E a chi è scettico a questa affermazione gli dico se gli è mai capitato di fare un tragitto, casa, lavoro, in auto, arrivare al lavoro e non ricordarsi cosa è accaduto durante il tragitto. Questo è successo a tutti, semplicemente perché sono le azioni, diciamo, automatiche che vengono gestite da una parte inconscia del nostro cervello che quindi permette di risparmiare energia alla parte invece razionale che è quella che usiamo per contare, per esempio, o per parlare. Quindi il nostro cervello ha due... Ci sono tante teorie su come funziona il cervello. Semplifico dicendo che ci sono due macro comportamenti. Uno è quello emozionale, quello spinto dai sensi, quindi come dicevo prima, sensoriale, il motivo per cui ordino il dolcino al ristorante anche se sono a dieta. E poi dopo i sensi di colpa. Quella è la parte razionale che arriva dopo. L'altra parte invece è la parte razionale, è quella che ci fa decidere le scelte razionali. Ora, è fondamentale capire che non esiste il proiettile magico, il magic bullet che tanti parlano, l'interruttore di acquisto. Non esiste perché sono mille gli aspetti sociali, personali e così via che condizionano le scelte della persona. Però abbiamo dei meccanismi simili tutti. Quindi ci sono dei meccanismi che possono aiutare a coinvolgere le persone e diciamo spingerle verso un determinato comportamento. Il che significa che se non voglio comprare Audi non comprerò mai Audi perché magari non ho i budget. Ma se sono indeciso tra comprare Audi o BMW, beh lì sì, il neuromarketing può aiutarti a farti fare una scelta piuttosto che un'altra. Quindi aspetti emozionali e aspetti razionali dove gli aspetti emozionali sono molto più veloci degli aspetti razionali. Il nostro cervello si basa come dicevo prima il 95% circa di scelte in maniera irrazionale e sensoriale 5% in maniera razionale. Ma soprattutto la cosa buffa se così vogliamo dire è l'aspetto di velocità. Il nostro cervello irrazionale è molto più veloce dell'altro e quindi ci fa poi nascere eventuali sensi di colpa. È quello che in modo non tecnico si chiamano scelte di pancia scelte di test. Cioè quando scegli un qualcosa così e poi te ne penti amaramente bravissimo bravissimo è la scelta razionale. È proprio quella è proprio quella scelta che noi definiamo di pancia è quella che apparentemente non ha nessuna razionalità o comunque sembra nascere dal niente beh non nasce dal niente nasce da un coinvolgimento emozionale che ti ha spinto a fare qualche cosa e poi ribadisco tanti parametri che entrano in gioco però lì chiaramente si può fare la differenza a livello di comunicazione. Ma è il momento di shock mondiale tipo quello che stiamo vivendo abbiamo vissuto come cambia il modo in cui il nostro cervello lavora perché io lo vivo sulla mia pelle io sono una persona che sulla relazione umana ha dato il nome ad un'azienda cioè humans to humans quindi è già evocativo di per sé però io prendevo 260 treni all'anno e mi sono ritrovato in un anno a prenderne due quindi ora anche quando sono di fronte a delle scelte viaggio o non viaggio ora sono molto più razionale dall'essere irrazionale ma si prendo un treno e via perché ero abituato a farlo assolutamente come cambia il nuovo un po' il nuovo il nuovo mondo il nuovo mondo del nostro pensiero sulle scelte razionali e razionali anche per i brand ti posso dire che ci sto scrivendo un libro proprio in questo periodo su questo argomento il secondo il secondo sì il primo anzi in realtà sarebbe dopo parliamo del primo in realtà sarebbe il terzo se ne prendiamo in considerazione anche uno di cui sono coautore in America comunque che affronta proprio la tematica della comunicazione in era pandemica e post pandemica noi abbiamo subito quello che viene identificato in un termine tecnico come marcatore somatico il marcatore somatico è un evento che diciamo ci fa l'effetto gatto in lavatrice cioè ci scombussola tutte le nostre certezze io dicevo prima scherzando a telecamere spente sono del 78 la mia generazione l'ho definita la generazione comoda perché noi non abbiamo mai vissuto nessun shock emozionale forte non abbiamo vissuto guerre come i miei nonni non abbiamo vissuto pandemie fino a che non è scoppiato il covid questo ha cambiato tutti i paradigmi quando è scoppiato il covid io ero negli Stati Uniti e mi accorgevo che le prime cose che sparivano dai supermercati erano la carta igienica chiamando l'Italia in Italia spariva la farina questo vi fa capire subito come allo stesso stimolo la paura gli aspetti sociali cambiano la percezione e quindi le reazioni arrivo nel nel building dove ho l'appartamento e c'è giù un ragazzo i ragazzi che stanno alla reception sono sempre gli stessi e praticamente arrivo e non lo riconosco perché? perché indossa la mascherina questo è un certo punto dopo un po' che gli parlo abbassa la maschera e mi fa ma sono io e chiedo scusa e concludiamo lì ho capito che questa era pandemica ha ucciso completamente l'empatia tra le persone perciò addirittura se oggi si parla di brand pandemici cioè di brand che sono stati in grado di comprendere rapidamente questa situazione e tirar fuori i valori giusti che sono i valori di aiuto verso il prossimo non sarà ricordato l'imprenditore che fa i soldi in questo periodo sarà ricordato quello che ha aiutato determinate tipologie di persone che sono quelle che hanno sofferto quello che ha compreso la situazione cioè quello che in qualche modo ha letto il valore emozionale e razionale e non quello nel dire cerco l'opportunità bravissimo e consideriamo che tutto questo aspetto che noi stiamo vivendo oggi delle persone che aprono le porte con il gomito continueremo a vederlo per anni perché sono due le leve emozionali cognitive più forti in assoluto sono la paura che quindi sta facendo impazzire la parte del nostro cervello che la gestisce che è l'amigdala noi abbiamo la nostra amigdala che è veramente spaventata da tutto oggi e l'aspettativa di un bene di un servizio che sto evidente perché se ordini un telefono nuovo finché non ti arriva tu sogni di farci chissà cosa poi quando ti arriva ti accorgi che è solo più veloce di quello che avevi prima ma alla fine le icone sono messe nello stesso posto la paura è una chiave fortissima veramente nel nostro cervello e è quella che oggi noi stiamo vivendo non più di due giorni fa camminavo per strada con la mia mascherina e ho starnutito e una signora che era a circa due metri davanti a me è saltata giù dallo scalino andando quasi in mezzo alla strada e che scherzando le ho detto signora anche se avessi il covid premesso che ho la mascherina un cofano di una classe A fa molto più male perché stava sopraggiungendo una macchina e ha rischiato di farsi investire questo ci fa capire come la paura le abbia dato uno stimolo emozionale barra sensoriale talmente forte da attivare i movimenti l'aspetto cinestetico quindi il movimento e diventa chiave quindi oggi i brand così come i marketers devono capire che è un approccio a un mondo nuovo non torneremo mai alla realtà di prima arriveremo a una nuova realtà a un nuovo mondo a una nuova normalità e il neuromarketing in questo può essere di aiuto perché ti dà proprio le informazioni sui biofeedback e di conseguenza su come le persone percepiscono il mondo di oggi che non è quello di ieri e non sarà quello di domani ovviamente anche se prima o poi confido prima questo covid sarà debellato guarda Luca ci scrive pensandoci i software e le app puntano proprio alla semplificazione dei processi quindi presumo che questo sia anche uno dei motivi per cui si punta l'interazione e il coinvolgimento attraverso gli stimoli ha del successo è molto vero è molto vero la semplificazione dei processi è uno dei punti chiave se pensiamo quando nacque l'iPhone uno dei grandi successi era avere un pulsante solo ed avere un'intuitività particolare che poi ritrovi nell'iPad e così via questa è una delle cose fondamentali per l'uomo il meno sforzo cognitivo tu fai fare ai tuoi clienti molte più possibilità hai di raggiungere il risultato che vuoi raggiungere perché siamo proprio programmati così siamo programmati per essere egoisti e pigri che detto così non sono molto bello ma questo è l'essere umano uomo che funziona veramente così guarda Marco ti faccio una domanda che mi è venuta in mente mentre ti ascoltavo parlare come fa però immagina un'azienda che deve nascere quindi un imprenditore che magari lascia il suo perché poi è successo anche questo c'è chi si è reso conto che la sua quotidianità non era più così di valore per scegliere invece una propria libertà e la libertà di fare impresa con l'obiettivo di inseguire magari avere il coraggio di fare qualcosa quanto anche i brand stanno in qualche modo pensando di fare qualcosa che non avrebbero mai immaginato di fare all'interno dell'azienda perché io credo che se è vero che ognuno di noi meno noi imprenditori ci svegliamo al mattino e pensiamo a delle idee e proviamo a metterle in pratica le aziende sono fatte di persone quindi anche una grande multinazionale è fatta da grandi idee e spunti che arrivano anche dalla parte razionale e irrazionali di chi quelle aziende le vive quindi come un'azienda può supportare i propri dipendenti ad essere anche un pochino più irrazionali per creare valore beh guarda diciamo così la cosa interessante è il giusto equilibrio tra razionalità e irrazionalità quindi le aziende secondo me oggi io lo vivo con i miei collaboratori devo essere honest e dirti che il mio successo recente sia qui che in America è dovuto in gran parte a loro e in gran parte al fatto che seguono magari le mie folle idee la prima volta che ho detto ok noi non siamo più un'agenzia di comunicazione standard siamo ci trasformeremo al 100% un'agenzia che fa neuromarketing mi hanno guardato dicendo questo è pazzo cioè ma chi lo vendiamo il neuromarketing questa è la prima cosa che mi hanno chiesto oggi non tornerebbero indietro mai per dirti questo significa che ci vuole un minimo di io dico sempre il pizzico di follia illuminata e sta poi alle aziende riuscire a tirar fuori le personalità dei singoli e tirar fuori proprio il loro aspetto più vivo questo lo si riesce a fare nel momento in cui la persona vive all'interno di un'azienda un coinvolgimento emozionale coinvolgimento emozionale che diventa fondamentale considera che uno dei campi in cui viene applicato il neuromarketing è proprio l'HR perché ci permette di capire dettagliatamente il profilo della persona e quindi il non detto della persona analizzando le persone con strumenti di HR studiati con il neuromarketing noi abbiamo uno strumento con l'assonina che è l'associazione nazionale delle neuroscienze applicate abbiamo prodotto uno strumento che poi abbiamo validato con i nostri strumenti di lab e è uno strumento che ti permette di capire veramente l'area profonda inconscia delle persone una volta che tu hai profilato la persona non per come lui si racconta ma per quello che è veramente riesci a metterla nella condizione ottimale di produrre di più di sentirsi utile di sentirsi parte dell'azienda che se vuoi è un po' quel concetto che si vede nei brand ambassador che si sentano parte di un brand esterno è lo stesso meccanismo di coinvolgimento non ci scordiamo mai l'uomo è un animale da branco ha bisogno di sentirsi in branco non è un animale che vive solitario se vi ricordate l'immagine del primo lockdown le persone che da Milano scappavano per tornare a casa è la chiara lettura dell'animale da branco perché qual è il primo posto dove stai bene è il tuo branco quindi la tua famiglia perciò tornavano a casa non era questione di chiudono Milano allora no 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 è torno nel porto sicuro cioè torno a casa nel posto in cui so che qualcuno si potrebbe prendere cura di me bravissimo e sono legami emozionali questa notizia quando venne fuori io ne parlai anche in una diretta e disse attenzione non la guardate come persone che scappano sono semplicemente persone che tornano dove stanno sicure dove sanno che qualcun altro può prendersi cura di loro quindi non è una fuga da un luogo è un ritorno a un legame emozionale parlami invece del tuo primo libro Oceano del mio scusami del libro Oceano il mio primo libro allora in realtà vengo coinvolto da uno scrittore in America che scrive Money Matters Tips quindi è un libro che parla di come i grandi hanno fatto successo e mi coinvolge come coautore in America in inglese scrivo una roba per lui e scelgo con lui alcuni autori poi vado ad un evento all'epoca non ero ancora del tutto verticalizzato nel food come oggi oggi il 90% probabilmente l'85% delle mie consulenze sono in ambito food poi anche in altri ambiti vado ad un evento che parla di food e a questo evento termino il mio intervento e mi chiedono se avessi mai scritto un libro no chiaramente no io ero uno studente pessimo al liceo avevo 5 italiani figurati se mi metto mai a pensare di scrivere un libro però mi si accende una lampadina mi si accende una lampadina importante che posso essere d'aiuto le persone erano veramente incantate da quello che io gli avevo raccontato sul palco ed allora inizio a scriverlo come? in quel periodo ogni 15 giorni circa io volavo tra Milano Malpensa e il Miami International Airport perché quindi all'andata sono 11 ore di volo al ritorno 9 c'è il vento a favore e all'andata si viaggia sempre di giorno al ritorno viaggia di notte in queste 11 ore ho deciso che dovevo usare il mio tempo e quindi mi prendo il mio iPad e mi faccio una mia mappa mentale per il mio libro e inizio a pubblicare il libro inizio a scrivere il libro convinto che quel libro sarebbe stata una risorsa gratuita da distribuire a chi interessato quindi è un libro scritto sopra l'oceano che gli dà un alone di magia assurdo ma è vero cioè era scritto quando stai lì sul tuo spazio nel tuo aereo e è buon finito il libro decido di inviarlo a tre case editrici per vedere che cosa ne pensano dopo pochissimi giorni la flaccova editore mi risponde veramente pochissimi giorni gli piace moltissimo l'argomento e decidono di pubblicare questo libro e infatti questo libro è entrato nella loro collana e da lì è stato poi un percorso bello che mi ha portato ora a scrivere un secondo averne commissionato già un terzo per l'anno prossimo sempre sugli argomenti di neuromarketing e spesso di food diciamo collegati grazie è stato un caso grazie ovviamente il titolo è neuromarketing per il food perché ho detto tutto tranne che il titolo e io ero rimasto all'oceano alla traversata però è molto interessante come partire da una tua routine no? che perché molti quel tipo di viaggio può in qualche modo rappresentare anche un momento di stacco no? io nella vita incontro persone ho due momenti in cui non voglio incontrare nessuno quando viaggio e quando ceno io ceno da solo e viaggio da solo questo perché per me sono mi piace osservare viaggiando guardo i comportamenti delle altre persone mentre sono in viaggio e a cena in un ristorante a cena da solo mi piace guardare come coppie come gruppi si relazionano tra di loro è un po' quello che hai fatto anche tu magari scrivendo il libro è applicare i concetti di neuromarketing per te stesso io i momenti perdone i momenti i miei personali sono quando mi alleno perché veramente sono un animale asociale in quel momento perché metto su le cuffiette è buon e quando viaggio perché anch'io metto su la cuffietta e può cascare il mondo io tendenzialmente in quel momento è il momento per me è il momento dove giustamente osservo e mi dedico alle cose che mi piacciono perché poi alla fine ho scoperto che scrivere mi piace un sacco guarda Francesca Francesca Barbieri ci chiede nel personal branding è corretto usare i concetti di neurobranding se sì quali? ciao Francesca assolutamente sì ti dico di più nell'evento che sto organizzando di cui appunto Digitali Novedi Days è partner che è a breve si chiama Neuromarketing Academy a 3, 4 e 5 di maggio online abbiamo per esempio Gianluca Lo Stimolo che è un grande del personal branding italiano che parlerà di personal branding e poi io collegherò diciamo alcuni consigli di neuromarketing dedicati bene i processi che si usano nel branding possono essere utilizzati anche per il personal branding soprattutto quelli che ti servono a restare memorizzato nella mente delle persone con cui tu ti stai rapportando perché il problema più grande è un problema che ho spesso io contro tanta gente do la mano anzi ora do il gomito o il pugno all'americana e dopo 30 secondi mi sono scordato il loro nome che è una sensazione fastidiosissima questo significa però che quelle persone spesso non sono state in grado di catturare la mia memoria a medio termine la memoria si divide sensoriale medio termine e lungo termine arrivare a lungo termine è un percorso lunghissimo complicato ma molto divertente è molto figo molto stimolante restare in quella sensoriale ti fa cancellare completamente il ricordo quindi già tutta la parte di come far memorizzare è chiave la seconda cosa è il percepito perché alla fine quando si fa personal branding non facciamo altro che passatemi il termine vendere noi stessi o perlomeno presentare noi stessi quindi il percepito delle persone che hanno di te della tua professionalità deve essere più elevato rispetto al percepito dei tuoi competitor perché altrimenti perché devo scegliere te piuttosto che un altro in una delle chiacchierate perché poi Gianluca lo stimolo è diventato un caro amico e tra l'altro la persona che mi dà consigli continuamente sul mio personal branding è stato chiave una domanda che mi fece una volta mi disse ma se tu vai da un tuo amico e gli chiedi che cosa fai lui lo sa e io rimasi un attimo lì non ha detto mia madre perché chiaramente spiegare a mia madre del neuromarketing non è proprio una roba semplice ma scherzi io da imprenditore per mio nonno sono disoccupato sì sì ma io sono quello che lavora con la mente perciò sto un povero mentalista comunque che cosa lui mi disse se un tuo amico imprenditore non ha capito che cosa fai il giorno che ha bisogno di un servizio come il tuo va da un altro e tu cosa fai ci rimani male questo è l'errore tipico che fa chi si è posizionato male il consiglio che do io è di utilizzare di semplificare a livello cognitivo quello che fai quindi specializzati io sono diventato un nome in Italia prima negli Stati Uniti grazie al neuromarketing per il food non vuol dire che non faccia neuromarketing in altri ambiti ma se tu cerchi neuromarketing per il food su Google sono ovunque ti rompo le scatole alla morte questo mi ha permesso di essere identificato e poi ci sono tre aspetti secondo me che sono gli aspetti visivi auditivi e cinestetici che devono che sono stimoli quindi che tu devi riuscire a creare se fai caso molto spesso nelle mie interviste ho una giacca rossa è uno stimolo visivo nato dal fatto che quando vai e parli a un evento se non sai il keynote speaker si vestano tutti tipo Steve Jobs col collettino nero alto e una macchia rossa si differenzia quindi era un elemento distintivo poi mi sono accorto che c'è un sedicente guru che fa delle sponsorizzate con una giacca rossa su Facebook che parla di marketing standard e mi sono sentito copiato e quindi ho personalizzato ulteriormente tant'è che nel mio outfit quando faccio gli eventi c'è una boutoniere una rosa di un brand fighissimo che mi ha in boutoniere che ho scoperto che mi ha identificato bene questo per dirti quello l'aspetto auditivo io chiudo quasi sempre con la stessa frase le mie interviste i miei interventi e poi quelli cineestetici che non sono così bravo ma vi faccio un esempio Cannavacciolo la pacca di Cannavacciolo la pacca di Cannavacciolo è identificativa se pensate a Cannavacciolo grandissimo personal branding cineestetico la pacca auditivo chiude sempre con vamos o adios e visivamente si riconosce bene quindi sì sono utilizzabili nella neuromarketing academy ne parleremo sia con lui che con Walter Clinkon che è un'altra persona che su Clubhouse ha una figlissima room che si chiama da bio addio proprio perché perché nei primi secondi il nostro cervello si prende subito l'imprinting della persona davanti e se attraverso le leve neurali e cognitive riesci a coinvolgere la persona subito diventi entri nella memoria guarda ti voglio raccontare un episodio io ho avuto la possibilità di poter fare una riunione con Barack Obama a Chicago ed eravamo 35 persone Barack Obama chiede di raccontare la domanda chi sei senza parlare del proprio lavoro quindi questa è la domanda che lui fa ed è stato impressionante perché si ricorda i nomi di tutte le persone all'interno della stanza ma al di là dei nomi ma proprio del modo in cui si presentano quindi c'è chi parla io mi presentai sono Valentino amo la vita odio la guerra questo che è un mio sentimento che è un qualcosa di cui credo davvero in quel contesto in un paese internazionale in Chicago davanti a lui che premio Nobel per la pace è stata una di quelle cose che lui l'ha colpito molto però ti dico è stato incredibile perché io poi mi sono ritrovato a parlare con una persona per un'ora e mezza senza mai parlarci del lavoro e partendo solo dalla parte emozionale per poi scoprire dopo un'ora e mezza che la persona che aveva a fianco era Katherine Meyer la CEO di Wikipedia mondo quindi quanto la forza della comunicazione la forza del raccontarsi per la parte anche più emozionale quindi quella che non è scritta sul biglietto da visita può dire di sé e la cosa che ho imparato e da lì il nome Human to Human è la mia azienda è che tutti noi abbiamo una storia al di là del biglietto da visita e che se io avessi parlato con Katherine sapendo a priori che lei fosse la CEO di Wikipedia la mia conversazione sarebbe andata da tutta altra parte ti avrebbe condizionato perché la parte razionale del tuo cervello ti avrebbe condizionato la tua conversazione probabilmente è stata molto più interessante proprio perché l'hai vissuta con la parte passami il termine più leggera del tuo cervello non esiste una parte leggera ma insomma cognitivamente meno applicata e quindi è stato vero quando io entrai nella room di Walter la prima volta io Walter lo conosco da un po' di tempo l'avevo visto su un palco e l'ho voluto coinvolgere mi buttò sul palco e disse ok presentati io partì sono questo quello un po' di incarichi la mia bio comincia a diventare troppo lunga e noiosa da leggere e lui mi fa no no Marco io ti conosco cosa sei a un certo punto così dal cuore mi venne ma io sono come un bambino che deve capire come funzionano i giocattoli perché la prima volta che smontai un computer e poi da lì diventai tecnico di laboratorio era perché c'era da capire come era fatto un computer dentro si parla del 386 286 roba per chi è come me insomma i più giovani non sanno cos'è ma è vero io agli eventi oggi mi racconto come un bambino che ha 42 anni vuole capire come funzionano i giocattoli e quale giocattolo più figo c'è del nostro cervello del nostro modo di comportarsi nessuno è una scoperta continua e questa scoperta fa sì che io la sera messi a letto i bimbi mi prenda dei libri mi prenda delle ricerche scientifiche e studi continuamente chi te lo fa fare la passione è una cosa che non ti deve mancare non ti deve mancare mai questo gioco che ha fatto Obama è un gioco molto intelligente peraltro fatto da una persona molto intelligente perché ha tirato fuori la parte vera delle persone non quell'etichetta che noi ci costruiamo ti faccio un esempio molto semplice legato al neuromarketing a proposito dell'etichetta quindi del detto e del non detto per un nostro cliente abbiamo preso un prodotto abbiamo messo due stand di Fersi uno prodotto centrico quindi foto del prodotto si dice quanto era buono e così via uno invece la foto dell'owner dell'attività che lo proponeva quasi come se te lo consigliasse e ti spiegava perché lo aveva scelto per te il 65% delle persone hanno comprato quello con la foto della persona che glielo consigliava intervistati fuori ci hanno detto che o era più buono li avevano assaggiati entrambi o costava meno era evidentemente lo stesso prodotto facendoglielo degustare le aree del cervello che si accendevano erano proprio legate maggiormente al piacere il che significa che la percezione influenza veramente quelle che sono le idee che noi ci facciamo nel nostro cervello e idem funziona nel personal branding o comunque in questo caso lui vi ha staccato la parte razionale e vi ha fatto tirar fuori la parte più vera che c'è dentro ognuno di noi che è la parte più bella guarda Marco Francesca ti ringrazia Luca ti ringrazia per i consigli io ti ringrazio moltissimo e per il tuo tempo per la tua professionalità per la tua meravigliosa storia io ti auguro una bellissima giornata e ti ringrazio per essere qui con me e con noi alla settimana dedicata all'informazione del Digital Innovation Days io sono Valentino Magliaro CEO di Humans2Humans vi saluto Marco Baldocchi grazie per essere stato con noi grazie mille a tutti e per chi vuole come vi raccontavo neuromarketingacademy.it è il sito dell'evento di cui appunto Digital Innovation Days è un partner ne sono orgogliosissimo di questa partnership e quindi ci rivedremo al Digital Innovative Days insieme un abbraccio Cristina ci fai complimenti dice intervista interessantissima grazie grazie Cristina grazie a chi ci ha seguito grazie ancora Marco seguite Digital Innovation Days i suoi appuntamenti ci trovate ovunque su Clubhouse qui su LinkedIn Facebook Instagram ovunque aspettando l'evento di novembre seguite gli appuntamenti di D Days in Contra grazie a tutti grazie ancora Marco buongiorno grazie per il vostro tempo ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.